Equifax, una delle più grandi agenzie di valutazione del credito al mondo, ha detto ieri che tra maggio e luglio i suoi server sono stati violati e le informazioni personali di 143 milioni di clienti, sono state rubate in uno dei più gravi attacchi hacker di sempre. Tra le informazioni a cui gli hacker hanno avuto accesso, secondo alcuni esperti anche per via di carenze nei sistemi di protezione di Equifax, ci sono nomi, date di nascita, indirizzi, numeri di patente e numeri di sicurezza sociale, qualcosa di simile ai nostri codici fiscali. Equifax, inoltre, ha detto che sono stati rubati i numeri di carta di credito di 209 mila persone. Grazie a tutti.